ha fatto anche, proprio in occasione della festa della Toscana, anche questo piccolo fascicolo che vedete che si intitola dalla parte degli ultimi Lorenzo Milani ed Ernesto Balducci attualità di una lezione cioè mette in relazione queste due grandi personalità Balducci e Milani e riproduce buona parte degli scritti di Balducci su Milani che Balducci ha scritto quando Lorenzo Milani era in vita al tempo di esperienze pastorali quando Milani è morto, negli anni 70, negli anni 80 e ha riflettuto sui temi di fondo della lezione del priore di Barbiana cioè la fedeltà agli ultimi, l'importanza della scuola e della cultura, i temi della pace, il primato della coscienza e qui noi riproduciamo appunto queste riflessioni